Ciao a tutti ragazzi da Corazionto9 bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video Spapò Cioè ragazzi stavo andando Nella via dell'altro villaggio che in teoria è qui vicino Cioè dovrebbe essere lì Lì per dire c'è il paradiso Ho un po' sbagliato strada a quanto pare perché stavo andando un po' troppo verso sinistra Perché volevo andare sinceramente a prendere del legno da caccia Per prendere appunto Il Come si chiamano? I sapling del legno da caccia Ecco tanto che non ho cibo a parte questo Come vedete ho ancora proprio Adesso vi faccio rivedere Tanto non è stato avvelenato il primo Vabbè Con gli altri sapling perché volevo proprio averne tipo un 10 ognuno Sbaglio un attimo strada a quanto pare E papam Villaggio mega figo questo perché c'è anche tutto quanto ragazzi c'è C'è anche i campi coltivati Questo è un vero villaggio porca miseria E vai E vai Che dire sono contentissimo Appena l'ho visto ho detto oddio Ho tolto Ho salvato Ho chiuso E ho cominciato a registrare dopo un po' Allora E non ho scappato Oh che carini Macellaio Ok mi devi praticamente smerarli per qualcosa Il conciatore Anche questi I ladri Conciatori Come al solito Chierico Va bene Tutti i campi qua ragazzi Figata anche sto roba qua Ah Dove questi versi Ah Qui tipo c'è Campo coltivato dentro a casa Cioè non ho capito Vabbè carote Grano Mette tutte le cose qui Molto carine Oh Qui vivono in tre Conciatore Macellaio Corazzaio Macellaio Siete cari però Cioè vendono le cose Per un casino di soldi Non c'è tipo il fabbro Ecco qua Fabbro d'Arnesi Efficienza 2 Palla di ferro Però Sei abbastanza caro Tu Mi ricordo più Bibliotecario Oh 26 di carta Per uno smeraglio Atterraggio morbido 3 Potrebbe servirmi questo Però 24 smeragli E la faccia 2 Io tanto per gusto Eh non c'ho una crafting Però Mannaggia Chiarico Beh Questo ti ho già visto Bibliotecario Per tanto 5 pagine Quindi ci fai lo sconto Qui c'è tipo una Torretta Sì Che figata Poi mi avete detto Che di solito Vicino ai villaggi Ci sono le piramidi Quindi può darsi Dato che in quell'altro Non l'avevo vista Magari in questo Ci sono pure Una piramide qua vicino Che c'è questa? Oddio Oddio una piramide Non ci voglio credere Proprio questa La piramide ragazzi Dentro il villaggio No Non ci posso credere Non ci sto credendo Ragazzi La piramide è qui Proprio nel villaggio No vabbè E tu Corazzaio No vabbè Io non ci voglio credere Tanto che torce Sono state torce Chissà perché Non ci voglio credere Ragazzi Davvero No dai Fantastico Figata Ok Questo diventerà La nostra nuova torre Penso Farò una torre unica Chiamata torre piramide Può essere Oppure torre villaggio Non lo so La torre villaggio Era già l'altra Se non sbaglio No 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 Non provateci eh Non provate a ammazzare Se gli zombie infettano I villaggieri Porca miseria Che casino Voi No Sono lo scoperto Non possono essere lo scoperto Torce Ne ho? Qualcuna Quanto basta Spero Cacchio sono anch'io Che le ho fatto spawnare Perché Sono qui vicino Quindi Menomale che C'hanno già loro Un po' di Torci di loro Però Comunque ragazzi Qui No 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 Piccignacolo De merda C'è Da dentro Ha colpito Quello lì C'è Se uno viene infettato Siamo fottuti Perché Scusate la parola Vabbè Perché dopo Uno infetta l'altro E Tipo Ste case qua Senza Tranquille Sì Anche perché Non c'ho letto Non c'ho niente Sono senza cibo Quindi Dovrei tornare a casa Vi saluto Ci vediamo dopo Tanto era lì Anche la giungla Tutto quanto Mi raccomando Non ammazzatevi Ok Quattro scheletri Uno deve spawnato Beh meglio Allora Facciamoci un attimo Punto di riferimento Qui Vabbè Non riesco neanche a correre Quindi sarà difficile Anche attaccare Praticamente Secondo me è verso di qua Ok ricordiamoci L'alberello Con quella torcia lì Perfetto Oh ma Il deserto fa stancare Un sacco Guardate i cosciotti Fa poco muoio di fame Veramente Allora Tanti mob Tanti mob Mamma se mi uccidono i villager A parte che non ho neanche visto un farmer C'è C'è il raccolto E non c'è neanche il farmer Voglio dire I zombie ora mi sono antipatici Perché se mi fate diventare Un frankenstein Come li chiamavo io Ovvero i zombie villager Uno dei miei villager Mamma mia cosa vi faccio Ricordiamoci di questa torcia qua Che è unica praticamente Quindi dovremmo ricordarcela Oh ragazzi Non riesco a andare più veloce Di così Non è che sta attaccando a me questa Sta solo facendo una festeggiatina Giusto No sta attaccando a me Mannaggia Allora Lì abbiamo un'altra torcia Seguiamo questo Procorso Penso che la torre villaggio Quindi il villaggio Sia di là Io mi sono tenuto un po' troppo Sulla sinistra E quindi ho sbagliato Mi seguo ancora No Vabbè Ricordiamoci invece di tenersi Appunto a sinistra Invece di andare verso destra Siamo a posto Con l'eccesoio Ho preso anche un paio di Cespugli seghi Si chiamano così Quindi fanno un po' schifo Nel senso che sono così e basta Peccato Preschiamo qui nella notte Quanti creeper ci sono Porca miseria Quasi più veloci di me Ecco mezzo cosciotto Sta per venire la fame Più assoluta No aspetta Ho ucciso qualche zombie Quindi Voglio dire Questo è il tuo fratello? Questo qui che ho appena mangiato? Bello quello del metto Mi gusta Guardate da qua Che distanza mi ha visto Mori Non mi ha dato l'evento Giusto? No Ah se vedete una perla omega Perché è fuori dalla parte Proprio venendo verso di qua Ho ucciso da un enderman E mi ha dato una perla Solo una purtroppo Nonostante il saccheggio che ho Però vabbè Intanto qui subito ho ritrovato All'attore paradiso Molto bene Dov'è? No Eh non l'avevo più visto Oh che culo Mi ho fatto trovare del ferro Uno Però vabbè Che figata di cascata ha creato Sono contento Bravo creeper Hai fatto una buona cosa Eh bisogna anche crearsene Ste cose Nel senso Adesso non ti capitano le venti Che ti fanno fare queste cose Sono in seguito del ragno Si sembra un po' una Cosa da puntura Qui un ago Però vabbè Boom Che è finalmente siamo tornati Qui una torcina ci starebbe piuttosto bene Sinceramente Qui ho detto che vorrò bonificare Questo territorio Farò diventare tutto un fiume Che porterà al mare Il fiume ovviamente è questo qui Che avremo Fiume S Praticamente Perché è una S Poi continuo ovviamente Ok Eh sto pensando Se fuori dalla parte Ho fatto qualcosa Qui a casa Ah sì 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 Tanto dormo Concedetemelo Ah Tranquillo Dormo E Faccio dare le piccole cose Che ho fatto Una cosa che non so Perché non avessi mai fatto prima Ovvero Ho fatto di soffitto 3 Questo Perché prima era 2 Ora è soffitto 3 Non c'è stato assolutamente Nessun problema Qui sopra abbiamo tutte le farm Belle vicine Che adesso C'è una parità appunto Di Di cosa E Zappavigna Vabbè Sì non c'è nessun problema A parte un po' di acqua Che era andata lì ma ho subito tappato Quindi a posto Qui vedete Toglierle ancora Non mi ricordo Io le tengo ancora Sono carine Però vabbè Vedremo Poi cosa ho fatto Qui sotto Ho creato tutto il piano Di 2 Stavolta Perché se no c'è l'acqua sopra Quella delle farm E penso di utilizzare Questo territorio Come Non con queste due cose qui Perché Si mette un cactus Si alza dei due Quindi non è che sia molto conveniente Ma unire i due piani Quindi questo qui E questo qui sotto Che stavo proprio costruendo Avete questo tutto terra per tappare Per creare appunto Ho fatto qui il buco apposto Per vedere Una cosa alta così Che sarà tipo alta 6 Se non sbaglio Per fare cosa Una farm di alberi Era per questo Che appunto stavo andando A cercare i sapling Tutto torna ragazzi Tutto torna E Tutto dentro ho tutto qua Che tanto Ok Ho messo anche la zappa Però vabbè Si devo ancora fare ordine Avete capito bene E Allora Dalla zappa la riprendo Cibo Mi serviva cibo innanzitutto Adesso mi è venuto in mente Si potrei anche vendere un arco Perché Si sa mai qua Ok Prendiamoci i 16 bistecche Poi magari Mi servono delle torce Quello sicuramente Questo qui del carbone Che non si sa per chi sia qui Però a me Ah il legno Non era riuscito a posizionare Niente da nessuna parte Devo ancora mettere in ordine tutto Ragazzi E E avevo poco legno Per quello volevo farmi anche la farm Quindi immagino Vediamoci Un po' di betulla Che carino che è Betulla a caccia Sono i migliori Probabilmente 24 Ma c'è Altro po' di Carbone Con le torce Sembra meglio abbondare Io sono di questo avviso Si 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 Perfetto Facciamoci le torce E siamo a posto Per torniamo in esplorazione Magari ci prendiamo Qualcosa di più carino Rispetto alla terra No ma anche la terra Perché non si sa mai Però cosa di carino Per una torre Così provvisoria Perché poi ragazzi Le rifaremo tutte Come sapete Mottoni no Magari il pietrisco Il pietrisco può andare bene Ragazzi Ce ne andiamo anche Appunto Alla scoperta Delle piramide Sto pensando se mi può servire Qualcos'altro Credo di no Comunque ragazzi Lo dico Ho usato Cioè ho cominciato a usare Proprio Sempre e soltanto I materiali incantati Cioè non ho più paura Di sprecarli Le ho fatti apposta Per usarli E li uso Insomma Casomai in teoria Abbiamo l'incudine Che può salvarceli Quindi siamo a posto Perché non usare La rotaia Per arrivare A paradiso So che abbiamo fatto Prima dei rampiedi Praticamente Dato che la fermata È solo una ancora Però dai Dato che ce l'abbiamo Sfruttiamola Poi sembra carino andare Fa un bel po' di casino Però Vabbè Beh Go 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 Brum brum Spai che mi sa perso Ah ok C'è chi va Ops Mori Ok Che carino Oddio Quanti creeper Ma qua 1 2 3 4 5 No vabbè Senza parole Sono senza parole Vabbè Comunque ragazzi La rotaia Avete capito Che la terrò Sia per Far una fermata Qui in mezzo Al deserto Ma anche dato che Ci sono tante grotte Davvero tante Una di queste appunto Farò una fermata Qui in mezzo Poi farò un'altra Fermata in un villaggio Un'altra fermata In un altro villaggio E tutte cose fighe Diciamo magari qualcosa No 25 livello Non l'avevo colpito Vabbè Un po' di sabbia Per me Fa sempre comodo La sabbia A volte vado a cercarla Di qua e di là Invece Devo ricordarmi Che c'ho Il deserto Posso prenderla da qui Molto comodamente Faccio spaldere un creeper E sono a posto Tanto la motore di levante Che non è che mi faccia tanto il creeper Ok quando si abbia preso 39 Mi chiamalo poco Faccio un po' di casino Nel deserto E figo dai Ok Tanto vi faccio un tarla Fami come va giù Che è un piacere Due anni Fatemi le cordicelle Buono Tanto mi faccio anche qualche livellino No Ci sta Ci sta Qui tanto mi vanno anche ossa e frecce Che mi servono sempre Ricordo che ho anche uno spawner L'unico spawner che ho trovato È uno di scheletri Quindi Mi servirà tantissimo Devo ritrovarlo E farci un collegamento diretto Con casa nostra Così appena posso Faccio una farm Bella bella Farm Non farò una farm Cioè la lascerò così Però Noi non abbiamo un collegamento veloce Se ci servisse Della farina d'ossa O semplicemente Delle frecce Lì abbiamo Ancora le frecce Dello scheletro Diciamo ieri Ecco Davvero figo Davvero molto figo Ho sentito tipo qualcosa Che si Diciamo Non si bruciava più Diciamo così Ma quanti mob ci sono Comunque è facile da trovare Dai Lì c'è l'inno di acaccio Solo di betulla e di quercia Vedo il betulla e quercia Piacerebbe trovare anche Del legno di abete Così abbiamo tutto il legno Credo Betulla, quercia, caccia Abete Ovviamente siano gli unici Va bene Rieccoci Anche delle pecore Lì È un paradiso 2 Questo Forse è proprio la continuazione Nella stravale paradiso Ragazzi Allora Vediamo un po' Ok Sani salvi Mi raccomando E tu Mamma mia quanto rischia Vivi? No 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 Via, via, via Subito, subito, subito Che figata questi Qualcosa da cripe Tu sei vivo Ma perché la fame si perde così facilmente? A caccia Perfetto Dammi la magna Uh sono morti Grande Ma tu come vivi qui? Scusa eh Scusi? Buon uomo? Sono qui? Ce ne vorrei sparcare la casa Per Vabbè Allora La preoccupazione sono gli zombie A questo punto Guarda qui che figata E zombie Per fortuna Non ne vedo Bello sto villaggio Però ragazzi Con la caccia lì Potrebbe essere un'altra fermata Verso Bello 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 E quindi se lì c'è la caccia Lì sarà l'altro villaggio Probabilmente Però ragazzi Piramide Soffermiamoci sulla piramide E il farm Non so di che colore sia Non so se abbia un colore specifico Non lo so La casa del fabbro In teoria contiene qualcosa Se la trovo La casa del fabbro Non sono un veterano Di mine Che non potete capire Non è che sappia tantissime cose Vabbè Comunque un bel villaggio grande Ragazzi Finalmente Quello di prima C'era proprio povero C'è la vita uno Mi scusi signore mio Ah Gli piace fare le cose Vabbè